Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo un bacio a Gesù, Gesù sii nella mia mente, Gesù sii nelle mie labbra, Gesù sii nel mio cuore, Amen. Tutto Gesù, guarda, Gesù, Gesù dappertutto, ovunque, perché Lui si sacrifica giornalmente per noi, per tutti noi. Gesù è la nostra unica salvezza, Lui è il creatore di tutto, delle cose visibili e invisibili. Di questa vita tu stai vivendo però per suo merito, per suo merito tu stai vivendo, stai respirando, mi stai guardando e ti sei innamorata di me. Però invece di innamorarsi di me, innamoriamoci di Gesù. Ognuno di noi deve avere l'amore proprio di se stesso, per se stesso, per se stessa. Però dobbiamo amare più che altro, più di tutti, Gesù, perché Gesù è l'unica nostra salvezza. Adesso io faccio una mini cena, mangio qualche pezzo di pizza che mi sono comprato stasera. ecco le pizze. Qualche pezzo le pizze. Io me l'ho comprata quattro numeri di fette, quattro fette, vediamo un po' questa com'è. Intanto apro la Coca Cola. scappa fuori, no, non l'ho sbattuta tanto. E mangio il primo pezzo di pizza con il salame piccante, guarda, pare il vomito. non è male pure ghiaccia. quanto ti piacerà, Stamma, guarda pure mentre magno. il problema mio è che non ho i tovaglioli. non mi scena mesi un po'. Qualche pezzo di carta c'è. è buona, è buona, piccante. non mi stai a guardare. non mi sei allora mi starei a guardare per tutto il tempo che mangio. mi piace un bel po' questa Coca Cola, però non mi piace il tamarro che c'è qui nella foto. la tamarria non mi piace a me, sono contrario. il suo per gli anni 80. buona, buona. devo stare vicino al piatto perché sennò al testo. sennò mi sbrodolo tutto. peggio di vecchietti. ho 41 anni e mezzi. adesso questa qua ha i melanchà. il tralcio di pizza con i melanchà. è buono. uno o una, o te che mi stai a guardare, potresti pensare che sto a imitare anche io YouTube lì. YouTube anch'io. però io sono da 12 anni prima dell'ho su YouTube e mangiavo. però lui è imbattibile perché mangiava tantissimo. chissà se c'è ancora. io ho detto al pizzaiolo, dammela che si mangia pure fredda. questa si mangia pure fredda. una misella e me guardio. quanto ti piace, Rodi? piú... più me hombres mau 밤 piú... piú piú, piú piú, 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 piú... e più te piace. io pure te voglio beh perché sennò non taccavo la videocamera e mi facevo vedere a mangiare so che tanta gente che piace a vedere mangiare allora gli fa piacere fammi bere sta bibita da tamarro piano piano mangio tutto ad è un altro pezzo che sa il mais questa no se si buttate dentro un laghetto uno stagneto i pesci se la divorzate perché vanno matti per il mais ovviamente è cotto mi poteva bastare anche tre pezzi ma mi dici una roba una volta per tutti quanto ti piace su youtube anche quei pochi la minoranza che mi fanno del male no tanto del male mi fanno eppure non riesce né a sostenere la vita di loro senza vedermi no per te per loro non riesce né a sopravvivere se non mi vedene pensa un po' cucciavarani cosa gli avrò fatto a questi lo sbrigati c'è da bici c'è da bici mi manca l'ultimo pezzo e manca più da pulirmi ciò più sta questo si chiama margherita non ho capito perché si chiama margherita questa pizza qui non sa da niente però alcuni pizzaioli c'è sputene quando è troppo sudati nei forni c'è sputene nella pizza per scherzare per ridere dopo gli utenti che vanno a comprarla mangiene lo sputo però per l'ora perché tanto a 800 gradi o 300 la pizza tanto qualsiasi cosa dice butti se cosci io cosa so se ci hanno sputato qui a rischio e danno di chi è che la compra a rischio a rischio a rischio a rischio a rischio a rischio E' importante che la finiscio. Dopo se mi scappa un rotto ovviamente per la salute tua, la salute mia. E' bello. Grazie. E una miseria buona questa coca cola. Finita. Adesso è uscito questo vento. E metto dentro il suo testo. Qualche tuaiolo qui dentro? No. Toh, per te. Toh, per te. E te pure, per te pure. Toh, un'altra volta. Oh, adesso sì che sto bene, dai. È buona un bel po'. È buona un bel po' questa coca cola. Ha fatto gli affari. Sta multinazionale. Come il McDonald's. Allora, ritorniamo al discorso che facevo prima all'inizio di questa registrazione. Gesù. Gesù è tutto. È tutto. Per noi è tutto. È la nostra essenza. È la nostra esistenza. È la nostra vita. È tutto ciò che ci riguarda. Non si può fare un discorso senza Gesù. Non è possibile. E non si esiste senza di lui. Siamo esistiti per merito suo. Noi non esisteve, non esistevamo. Oppure non saremmo mai esistiti se non era per lui. Quindi, anche se mi sbaglio i verbi, però il discorso è logico. Sarebbe illogico il contrario. Quindi, visto che tutto è per opera sua, ringraziamolo, lodiamolo, esaltiamolo. Perché più esaltiamo, lodiamo il creatore e più lui ci esalta e ci rafforza, ci energizza, ci protegge, ci libera dal male. Guarda. Il Santo Rosario. Ricordiamoci che è importantissimo recitare il Santo Rosario. Perché è una protezione forte contro gli attacchi infernali, contro le forze occulte. Allora adesso io leggo questa intercessione. e chiedo, oltre che l'intercessione dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, anche l'intercessione potente di Mamma Maria. Ave o Vergine degli Angeli. Ave o Madre dei Credenti. Ave o Regina e Porta del Cielo. Scenda sul tuo popolo nel prossimo Giubileo. Una pioggia di grazie si apra a tutti la porta del Paradiso. Amen. Ovviamente il Giubileo c'è stato, però non c'entra niente. Il Giubileo è la nostra salvezza in Paradiso. Perché i Giubilei terrestri è una manifestazione col Papa, con il Pontefice che fa da ponte tra terra e cielo e basta. E invece il Giubileo, il vero Giubileo, è quello in Paradiso, nel luogo più bello e più indescrivibile che esiste. Che ci ha preparato Gesù, la nostra unica e sola salvezza, liberazione e guarigione. Quindi diciamo insieme il Santo Rosario e poi termino qui questa produzione video. Perché ho tanti impegni, però soprattutto l'impegno di lodare, ringraziare ed esaltare Gesù Santissimo tutti i giorni. Ecco qua, in questo momento molto importante e santo, è un momento santo. Perché adesso vado a mitragliare, andiamo se vuoi anche tu, mitragliare gli spiriti maligni, le energie negative, le vibrazioni basse. Quelle che non ci lasciano vivere tranquilli, non ci lasciano vivere nella pace, nella gioia, nella verità. Andamole accolpì con il Santo Rosario e poi i sacramenti e la Santissima Messa, celebrazione eucaristica. E non si tratta di religione, si tratta di affidarci all'unico nostro creatore, l'intelligenza cosmica d'amore. L'intelligenza cosmica d'amore è colui che ci ha creati dal nulla, il Verbo. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù è il Verbo. È tutto, Gesù è tutto. Tutto quello che noi ci abbiamo bisogno. Senza di Lui siamo finiti. Diciamo insieme il credo apostolico e poi l'invocazione allo Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre Onipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discesa gli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte e salì al cielo, sede alla destra di Dio Padre Onipotente. Di là verrà giudicare i vivi morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Adesso invochiamo il Santo Spirito che ci rafforzi e ci liberi da ogni male occulto. Vieni, oh Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datori dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, oh Aspite dolce dell'anima, tu dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Oh Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Spirito, sarà una nuova creazione, rinnoverai la faccia della terra. Quindi, come ti dicevo un attimo fa, poc'anzi, Gesù non è religione. Non ha fondato nessuna religione il Padre Celeste. Il Padre Celeste è l'energia d'amore. Quindi noi non dobbiamo soffermarci sulle religioni del mondo che ha creato l'uomo ingrato contro Dio, ma soffermarci nella energia cosmica d'amore. Diciamo insieme il Padre nostro e 50 proiettili contro il demonio, 50 Ave Maria. Meditando i misteri della gloria. Oggi i misteri della gloria, la ressurrezione della morte. Nel primo mistero della gloria si contempla la ressurrezione della morte. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in dentazione, ma liberci dal male. Amen. Se sei posseduta e posseduto, ti dà tanto fastidio questa medaglia. Allora la metto fuori in evidenza. Per chi è posseduto, i puretti, si toglie nella possessione diabolica recitando rosario e soprattutto prendendo i sacramenti, il sacramento del battesimo e della santa comunione e la confessione, ricordandocelo. Sia fatta la tua volontà come il cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in dentazione, ma liberci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, Madre di Dio. Ave Maria piena di grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regine della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso mi levo la maglietta perché è caldo un bel po'. E per il secondo mistero andiamo a meditare che Gesù è salito in cielo, anima e corpo. Ecco, gli angeli l'hanno prelevato, anima e corpo. Eh? L'hanno prelevato. Cos'è? Un pigiama? No, no, è una maglietta. Ecco qua. Tanto dopo il pigiama si fa sempre in tempo. Questa è una canottiera che mi fa sta meglio, no? Allora, nel secondo mistero della gloria, contempliamo quindi la salita in cielo, anima e corpo di Gesù. I soldati l'hanno preso e portato in cielo. Chiediamo a Gesù la grazia di fare la stessa cosa con noi, da mandarci gli angeli a prelevarci e portarci sulle glorie sue. Padre nostro che sei nei Cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte e ame Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte e ame Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, siamo giunti alla terza mitragliatrice, alla terza mitragliata contro i spiriti maligni, la terza decina dei misteri della gloria. Cosa significa la terza? Che cosa si medita? La scesa, la discesa del Santo Spirito, il Santo Spirito Paraclito. Lo Spirito Santo che scende sugli apostoli è Maria. Chiediamo a Gesù di essere innamorati di Lui, di innamorarci di Lui, perché Lui è l'unico vero amore. Non c'è un altro amore uguale a colui che ci ama follemente, perché Gesù è l'unica essenza che ci ama. Tra di noi c'è un amore, ma è un amore passeggero, futile. Si dice amore, 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 ma basta un inconveniente che già ci ha finito tutto. Invece Gesù ci ama follemente per sempre. Quindi siamo gli grati e amanti di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indore in tentazione, ma liberci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne. e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, contedo, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, contedo, sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e dei secoli, ame. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. O Maria, Regine della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Cos'è? Sono alle otto, si fa notti. Nel quarto mistero, anche se c'è stanca da recitare osario, e ci fa addormentare, sentivo tanto fastidio, no? L'inizio, le prime volte, io pure sentivo fastidio, me indormivo e tutto. Dopo però sentivo piacere, adesso sento piacere e gratificazione. Perché non è una preghiera, è un'arma contro il demonio. E al demonio, e da tanto fastidio il rosario. Apposta stufa, rompe, e si chiama come una cantilena, e la messa, il sermone. Perché si dice così? Perché il demonio è impresso nei cuori imbastarditi e nelle menti, ingrate contro il creatore, contro l'intelligenza cosmica. Il rosario mette a K.O. queste presenze demoniache. Nel quarto mistero si contempla l'assunzione di Maria in cielo. La Madonnina è portata in cielo, anima e corpo dagli angioletti. Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori. Abre, 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 Abre Ave Maria, piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore contedo sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame Ave Maria piena di grazie al Signore contedo sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame Ave Maria, piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regine della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria si contempla l'incoronazione di Maria Santissima in cielo, incoronata Regina dell'Universo. Quindi chiediamo alla Regina dell'Universo una sua intercessione per una grazia o per pluri grazie o per tante grazie che ci abbiamo bisogno e intenzioni. Quindi mettiamoci le intenzioni e i miracoli che ci abbiamo bisogno noi di ricevere. Chiediamoli per intercessione di Mamma Maria, la Regina dell'Universo. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato, il tuo nome venga, il tuo regno sia fatta la tua volontà. Come in cielo così il terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti. Come noi le rimettiamo i nostri debitori, non ci indore in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazia il Signore Con te tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazia il Signore Con te tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Questo tempo è tutto guadagnato, ricordate Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore contedo sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame Ave Maria piena di grazia al Signore contedo sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte ame Ave Maria piena di grazie al Signore contedo sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore contedo sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli, ame Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero Salve, o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve A te ricoriamo, Gesù, figli di Eva A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostrici dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno O clemente, o pia, dolce vergine Maria Adesso un padre ave gloria per le intenzioni del Sommo Papa E per i nostri bisogni e intenzioni e grazie che abbiamo chiesto E chiediamo a mamma Maria nel nome di Gesù Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome E venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà Come in cielo così intera, dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimette a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori E non ci indura in dentazione ma liberaci dal male, Amen Ave Maria piena di grazie al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Gesù Giuseppe Maria, vi dono il cuore e l'anima mia Gesù Giuseppe Maria, assistetemi nell'ultima agonia Gesù Giuseppe Maria, aspiri in pace con voi l'anima mia Gesù Giuseppe Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la santa carestia E per intercessione di San Michele Arcangelo, di Mamma Maria Nel nome di Gesù Cristo, scenda su di noi lo santo spirito paraclito Di liberazione e guarigione da ogni sorta occulta Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Un bacio a Gesù Gesù Sì nella mia mente Gesù Sì nelle mie labbra Gesù Sì nel mio cuore, Amen Te saluto che sei innamorata di me e sei innamorato di me Che mi segui sempre, anche stavolta Ciao, te saluto, fine, the end, fine Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao